Buon pomeriggio a tutti, questa è la conferenza stampa con Mario Gargiulo, c'è la prima domanda di Tonio De Giorgi di Telerama, prego Tonio. Buongiorno, volevo chiederti che campionato ti aspetti, che campionato sarà da gennaio in poi vista l'incidenza dei contagi da Covid e poi un'altra domanda, nella tua personale agenda quali sono i desideri che magari vorresti realizzare per quest'anno che si è aperto? Sicuramente mi aspetto un altro tipo di campionato rispetto al giro d'andata, sarà sicuramente un campionato molto più duro e tosto dove troveremo squadre che si rafforzeranno con dei nuovi innesti che faranno ma non ci faremo trovare impreparati e per quest'anno io parlo sempre a livello di squadra, spero comunque di realizzare tanti obiettivi di raggiungerli con la squadra, poi i singoli arriveranno. Alessio Amato di Calcio Lecce Ciao Mario, siamo più o meno a metà campionato, un tuo bilancio personale nel senso proprio di partendo dal tuo approccio all'ambiente giallorosso e quindi come si è sviluppato in questi mesi, seconda domanda invece se questa situazione è legata al covid chiaramente generale, non solo in casa Lecce, a voi calciatori comunque crea o qualche preoccupazione personale o qualche fastidio su quella che è la normale preparazione che dovrebbe essere? Ma ti dico sicuramente mi aspettavo tanto, penso di dare ancora molto per questa squadra, per la società che ha creduto in me, sono molto contento a livello personale per aver avuto questa continuità, spero di continuare ad averla, a livello di questi contagi sicuramente ci può dare fastidio perché comunque c'è la preoccupazione che in ogni partita ci può essere un contagio, un positivo, dobbiamo stare anche noi attenti ad uscire, dobbiamo restare a casa, quindi ci sono anche tanti sacrifici da fare, purtroppo ci dobbiamo attenere a queste norme. Gabriele De Giorgi di Lecce Prima Sì Mario, volevo chiederti, dal punto di vista tecnico-tattico, in cosa pensi di dover ancora migliorare? Per esempio il tiro da fuori che un po' tutta la squadra sta mancando in generale, più continuità nelle penetrazioni, c'è un compito specifico che ti sei assegnato per migliorare? Sicuramente mi sono rivisto un po' di partite che ho fatto il girone di andata e ho tirato molto poco in porta da fuori area, sicuramente questo obiettivo qui è quello che mi devo porre nel girone di ritorno, di cercare il tiro da fuori e comunque le incursioni e la profondità la sto dando, sicuramente dovremo e dovrò continuare a dare sempre di più in ogni partita e soprattutto poi partiremo dall'allenamento, quello è. Buonasera Mario, volevo chiederti, adesso sta arrivando un periodo molto intenso alla ripresa perché ci sarà il recupero della partita con il Vicenza, si chiuderà il girone d'andata con il Pordenone, ci sarà anche la sfida prestigiosa di Coppa all'Olimpico contro la Roma, quindi un periodo di impegni ravvicinati, come ci si prepara al meglio e se pensi che tante partite ravvicinate possano essere uno snodo importante per prendere al meglio il rientro appunto della sosta? Sicuramente avremo tante partite ravvicinate e questo potrà far sì che tanti giocatori che hanno trovato meno spazio nel girone d'andata la possono ritrovare ora che abbiamo ogni tre giorni una partita che sono una più importante dell'altra e quindi dobbiamo continuare così come stiamo facendo anche nelle giornate di festa che abbiamo avuto, non abbiamo mai smesso, ci siamo sempre allenati, abbiamo avuto un programma da seguire, dobbiamo continuare così, ogni allenamento deve essere importante per affrontare la prima partita che è col Vicenza nel migliore dei modi. Matteo Bottazzo, Canale 85 Ciao Mario, a proposito di Vicenza, l'altra volta praticamente eravate con i borsoni in mano per disputare la partita, è arrivato lo stop da parte dell'Asl, come e con quale prospettiva, con quale stato d'animo ritrovate il Vicenza, soprattutto che sarà rinforzato da questo inizio della campagna acquisti di Invernale? Ma questo non ci deve preoccupare, eravamo pronti di giocarla dopo Natale, dobbiamo essere pronti ora, non dobbiamo avere paura di nessuno, penso che dobbiamo continuare sulla scia che abbiamo fatto, incontreremo sicuramente una squadra più preparata magari del girone che c'è stato e noi dobbiamo farci trovare pronti, come sappiamo. Bene, grazie a Mario Gargiulo, grazie a tutti voi. Grazie a tutti.